Il Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone è arrivato alla sua ventunesima edizione. Dal barocco al contemporaneo, dalla vocalità corale alla ricerca strumentale. Come ogni anno il Festival propone un originale itinerario dedicato al senso del sacro, espresso attraverso la musica, bagaglio culturale e religioso di ogni popolo. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Anche quest'anno ci sarà una presentazione del Festival. Voi sapete che la Casa dello Studente è la parte attiva dell'organizzazione di questa serie di concerti che dà sia lustro alla Casa dello Studente ma soprattutto offre un regalo alla città nel periodo natalizio che ormai sembra imperdibile. Quindi anche quest'anno ci attendiamo con l'opera di Eddi Denadai, una cura nella preparazione della manifestazione che ormai la caratterizza e è un invito a tutti noi di esserci e di approfittare di queste occasioni. Il direttore artistico Eddi Denadai illustra i quattro appuntamenti in programma. Quattro concerti come il solito improntati alla massima diversificazione dei programmi, due concerti internazionali, veramente internazionali, che danno spazio a proposte che vengono dai nuovi paesi europei, dalla Cecchia, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia, un concerto locale, chiamiamolo, ma di altissimo livello, l'ensemble barocco Tiepolo e un concerto di musica contemporanea con uno dei gruppi di musica contemporanea più italiani, più famosi del mondo, l'ex novo ensemble di Venezia.